Secondo me, gli italiani e l'Italia hanno sempre avuto un rapporto conflittuale, ma la colpa non è certo dell'Italia, ma degli italiani che sono sempre stato un popolo indisciplinato, individualista, se vogliamo un po' anarchico, ribelle e troppo spesso cialtrone. Secondo me, gli italiani non si sentono per niente italiani, ma quando vanno all'estero li riconoscono subito. Secondo me, gli italiani sono cattolici e laici, ma anche ai più laici piace la benedizione del Papa. Non si sa mai. Secondo me, gli italiani sono poco aggiornati e un po' confusi perché non leggono i giornali. Figuriamoci se rileggessero. Secondo me, non è vero che gli italiani sono antifeministi. Per loro la donna è troppo importante, specialmente la mamma. Secondo me, gli italiani hanno sempre avuto come modello i russi e gli americani. Ecco come va a finire quando si frequentano le cattive compagnie. Secondo me, gli italiani sentono che lo Stato li vuol bene, anche perché non li lascia mai soli. Secondo me, gli italiani sono più intelligenti degli svizzeri, ma se si guarda il reddito medio pro capite della Svizzera, viene il sospetto che sarebbe meglio essere un po' più scemi. Secondo me, gli italiani sono tutti dei grandi amatori. Peccato che nessuna moglie italiana ce ne sia accorta. Secondo me, gli italiani al bar sono tutti dei grandi statisti. Ma quando vanno in Parlamento, sono tutti statisti da bar. Secondo me, un italiano, quando incontra uno che la pensa come lui, fa un partito. In due è già maggioranza. Secondo me, gli italiani sono i maggiori acquirenti di telefonini. E non è vero che tutti quelli che hanno il telefonino sono imbecini. È che tutti gli imbecilli hanno il telefonino. Secondo me, gli italiani non sono affatto orgogliosi di essere italiani. E questo è grave. Gli altri invece sono orgogliosi di essere inglesi, tedeschi, francesi e anche americani. E questo è gravissimo. Secondo me, gli italiani sono i più bravi a parlare con i gesti. E quando devono pagare le tasse, fanno... Gli italiani, popolo di combattenti, l'ha detto Giusuè Carducci. Gli italiani, popolo di pensatori, l'ha detto Benedetto Croce. Gli italiani, popolo di eroi, l'ha detto Gabriele D'Annunzio. Gli italiani, popolo di sognatori, l'ha detto Gigi Marzullo. Secondo me, gli italiani in Italia hanno sempre avuto un rapporto conflittuale. Ma la colpa non è certo degli italiani, ma dell'Italia che ha sempre avuto dei governi con uomini incapaci, deboli, arroganti, opportunisti, troppo spesso ladri e in passato a volte addirittura assassini. Eppure gli italiani, non si sa con quale miracolo, sono riusciti a rendere questo paese accettabile, vivibile, addirittura allegro. Complimenti. Grazie.